lor signori salve e ben ritrovati sul canale con un nuovo spacchettamento antico continua la serie di pacchetti vecchi che andiamo a spacchettare che sono già stati preannunciati in un video della posta retrograda un po di tempo fa e oggi tocca a crisi oscura un'altra ristampa della lente da ricollection altrimenti questo sarebbe il set numero 9 uscito quindi prima di invasione del caos che facesse il botto totale nel metagame questo infatti come set è abbastanza tranquillo diciamo non ci sono tantissime carte diventate meta in quel momento una volta uscito e anche a livello di valore non è considerato così tanto incredibile a livello collezionistico si parla stavolta non sono riuscito ad aprirlo bene purtroppo il nostro crisi oscura dovrà rimanere martoriato così purtroppo comunque a noi non frega niente del fatto che collezionisticamente non ci fosse nulla di che che poi comunque qualche carta che sta ovviamente c'è però appunto a noi non ci frega un cazzo perché è comunque uno dei set migliori a livello di illustrazione anche per quel che riguarda le comuni quindi andiamo immediatamente a vedere se riusciamo a tirare fuori comunque qualcosa di bello tipo qualche arcidemone tra le ultra ricordiamo che c'è xodia necros scinato insomma un po di roba c'è allora si inizia con ordini di attacco finale trappola simpatica nei mazzi super aggro comunque non starei a fare nessun truccone nemmeno stavolta perché non non è che abbiamo molto ben capito come come farli quindi per ora andiamo avanti con le comuni e basta bacchetta del silenzio key est sì su crisi oscura c'erano anche gli equipaggiamenti con i guardiani che infatti guardiano c'è alle grarl sono tra le ultra trovabili un mille milleotto che è per l'appunto il guardiano key est che però è solo una comune giustamente guardiamoci anche dietro qualche comune ah agido questo è esattamente la carta che si stragioca adesso in tr laments giusto bene datemi 90 euro sì che tra l'altro stava un bel pop in uscita dopo due secondi si sono resi conto che non era nulla di che invece è scesa 5 euro adesso forse sta questa rimane decisamente di molto più valore poi andiamo a vedere qua dietro il ladro dell'arsenale che vi ruba un equipaggiamento nulla di che comunque e poi credo possiamo andare con un'altra comune con la prova del fuoco per evocare il leggendario signore delle fiamme che è raro quindi potremmo anche trovarlo forse andiamo avanti qui con le comuni suppongo abbiamo un altro mille milleotto ovvero ah ok mi sembrava un po' strano che ci fossero la stessa carta oltretutto di fila vabbè mina la spina sì su dcr c'erano anche tutti i vari dark scorpion a parte donzalughe che è su pgd comunque andiamo ancora avanti credo che abbiamo la rara adesso molto probabilmente millasei milleotto ah sì il des demone selvaggio nulla di che come rara anche se comunque non è male esteticamente e concludiamo con un rituale un rituale ci sono anche rituali comuni può darsi magari mi sfugge qualcosa però altrimenti potrebbe anche essere una brillante e anche vedendo un po' il bordo può essere vabbè vediamo allora se davvero una brillante di che si tratta oh il maestro oscuro zork abbiamo una brillante abbiamo una super e zork per l'appunto è decisamente buona come super e tra l'altro molto figo e un rituale anche comunque con un po' del potenziale divertente da usare quindi effettivamente se riuscite a trovare una brillante tra questi pacchetti legacy e anche se è solo una super comunque ci va molto bene cosa invece ne pensate voi dello spacchettamento fatemelo pure sapere nei commenti se vi va se vi sarebbe piaciuto trovare magari altro di questo set di più bello che preferivate eccetera eccetera comunque fatemi sapere se volete anche che cosa ne pensate in generale di questo set che solitamente un po' distrattato e invece secondo me è uno dei migliori almeno come estetica delle carte come già detto proseguiremo in ordine quasi cronologico con i pacchetti perciò la prossima volta passeremo a invasione del caos sperando di trovare qualcosa di molto grosso che all'interno per l'appunto ci può essere e quindi per questo motivo vi invito a iscrivervi spontaneamente al canale ma vi dovresti iscrivere anche per un altro motivo ovvero che se non lo fate vi mando a casa cioè chiaramente il maestro oscuro zork anche perché quando ho fatto la lista got con lui ancora non avevo la buona abitudine di minacciarvi con le carte perciò oggi abbiamo l'occasione di farlo con zork il quale arriva a casa vostra lancia un dado e avrete una possibilità su sei che auto esploda imploda come un deficiente da solo altrimenti esploderà la vostra casa e tutti i vostri bei raccoglitori con le wifi i robottoni eccetera quindi vedete un po' voi da crisi oscura questo è tutto signori vi do dunque appuntamento ai prossimi video del canale distinti saluti